Avvocato La Scala Lei condivide le parole del procuratore Gratteri secondo il quale le riforme della giustizia sembrano ispirate anche a una sorta di sfiducia nei confronti della magistratura Allora, più che una sfiducia nei confronti della magistratura sono ispirate alla inefficienza organizzativa dell'apparato giudiziario che è un concetto un po' diverso perché l'apparato giudiziario italiano in questo momento non ha una organizzazione efficiente per affrontare il carico di lavoro spaventoso si è cercato in questo ventennio di risolvere il carico di lavoro con le depenalizzazioni rendendo a querela di parte a Birgola Cartabia reati perseguibili d'ufficio rendendoli a querela di parte così i cittadini non querelano e non si fanno più cause non potenziando gli uffici giudiziari questo sì diciamo che i provvedimenti adottati ma non da questo governo da tutti negli ultimi dieci anni sono provvedimenti finalizzati a far sì che la magistratura non faccia il suo lavoro questo sono d'accordo ma non per sfiducia della magistratura ma proprio perché manca l'apparato organizzativo ripeto, non è un problema di assumere 200, 300, 400 giudici ma di formarli prepararli e predisporli un apparato cancellieri collaboratori di cancelleria ufficiali giudiziari assistenti giudiziari aule computer stenotipia altrimenti sì mi fai fare 50 udienze ma se non ho tutto questo attorno come faccio? ogni giudice di quelli seri che lavorano che sono la stragrande maggior parte hanno bisogno di tutto un apparato poi anche tra i giudici come tra gli avvocati commercialisti giornalisti carabinieri finanziere poliziotti dottori notai come tutte le professioni del mondo ci sta poi una piccola percentuale di chi non fa il suo lavoro in maniera corretta o non ha grande voglia di lavorare ma la stragrande maggioranza si ammazza di lavoro in condizioni pessime quindi la riforma e le norme sono da criticare per taluni aspetti ma non credo per sfiducia nella magistratura più che altro per la sfiducia nell'apparato giudiziario ma sfiducia che deriva da 50 anni di ritardi omissioni e inefficienze che sono colpa di tutti non solo di questo governo c'è un aspetto che riguarda il cellulare che è un aspetto del quale ormai nessuno di noi riesce più a farne a meno che attiene proprio al sequestro del cellulare dove si confrontano la tesi riguardante la necessità che questo possa avvenire secondo le nuove modalità e quella del rispetto della privacy ecco può brevemente riassumere in cosa consiste la riforma e qual è la sua posizione allora sì per quanto riguarda ovviamente il cellulare io non vedo grosse differenze rispetto a una normale intercettazione telefonica ambientale perché anche l'intercettazione telefonica e ambientale viola la privacy dell'indagato ci mancherebbe che non la viali però c'è un problema di bilanciamento dell'interesse in gioco se metti una microspia nella mia macchina sentirai tutto di me chiaramente tante cose che non cedono nulla con l'agine che violerebbero la privacy ma è un prezzo da pagare per ottenere una giustizia che funziona senza microspie senza intercettazioni non si potrà andare da nessuna parte così come l'acquisizione dei dati all'interno di un telefonino se si acquisisce il dato un telefonino è chiaro che ci sono migliaia di messaggi privati con persone che non c'entrano nulla e che potrebbero consentire all'autorità giudiziaria di sapere anche fatti privati che non costituiscono reato e che nulla hanno a che vedere con i reati però da qualche parte bisogna partire spetta tutto alla professionalità e alla serietà di chi svolge le indagini che deve concentrarsi su whatsapp di interesse investigativo sulle accaptazioni di video foto che riguardano l'indagine se vedo poi che Antonio Lascale e Pantano si messaggiano per altro beh non è giusto che tu vada a vedere quei messaggi però è chiaro questa certezza non ce la da nessuno nel momento in cui acquisisco il cellulare acquisisco tutto cioè in teoria mi posso copiare tutto è reato ma come lo scopro io come farò mai a scoprire che tu ufficiale di PG ti sei salvato una copia tutta per te da vederti privatamente fuori dall'indagine per sapere i fatti miei non lo scoprirò mai è ovvio che c'è una violazione della privacy ed è un rischio come dire accettabile connesso all'esigenza investigativa però è uno strumento giudiziario importante secondo me è uno strumento giudiziario importante quello dell'acquisizione dei dati nel cellulare con tutta una serie di garanzie difensive che è chiaro che un PM non accetta perché la vede come una sorta di limitazione però allo stesso tempo dobbiamo anche preservare la privacy non dell'indagato ma di tutti i contatti che l'indagato ha con persone che non c'entrano assolutamente nulla con l'indagine sono persone per bene quindi in effetti mi rendo conto che un limite va messo va messo andava messo ma la privacy è un valore che va come dire che soccombe in un bilanciamento rispetto al valore e al bene giuridico fare giustizia accertare reati scoprire gli autori del reato questo come dire è un interesse che viene prima di tutto per cui dispiace per i voglio dire per chi crede fermamente in questo ma un minimo come dire una violazione della privacy ci deve stare perché ripeto è un valore sacro ma rispetto alle indagini poi ovviamente chi acquisisce i dati ne fa un uso distorto commette un reato il problema tecnico è come lo si accerta io cittadino che ne saprò mai se ti sei fatto una copia del cd per i fatti tuoi ti andrai a vedere una copia scusa della memoria del cellulare e ti andrai a vedere tutte le mie chiamate con persone amici parenti conoscenti amanti conviventi e quant'altro io non lo saprò mai è quello in mani sbagliate potrebbe dar vita a quei fenomeni di dossieraggio che ogni tanto in Italia appaiono a tomorrow a terra si a terra